In primo luogo ci tengo a smentire alcune notizie che sono comparse sui mezzi di informazione e cioè sul fatto che il ragazzo 19enne di origine algerina, trattenuto nel CPR, sia morto a seguito di percorsi. Non ci sono segni di violenza e quindi è stata disposta una consulenza perché certamente non sembra assolutamente dipendere da cause naturali il decesso del povero ragazzo. Si chiamava Osama Bellam, il 19enne morto intorno alle ore 15 di lunedì 5 agosto nel centro di permanenza per i rimpatri di Palazzo San Gervasio. Il giovane algerino, stroncato da un infarto, potrebbe aver assunto qualche sostanza pericolosa che ne ha causato l'arresto cardiaco. Su questa ipotesi sta indagando la procura di potenza che ha sequestrato tutta la documentazione relativa ai trattamenti sanitari del giovane che si trovava sotto terapia farmacologica. Il decesso di Osama sarebbe stato segnalato con ampio ritardo considerando anche che nel momento della scoperta del cadavere avvenuta diverse ore dopo all'interno del centro c'era solamente un infermiere a disposizione degli oltre 100 trattenuti. Proprio la gestione dell'infermeria era già finita sotto indagine con la precedente cooperativa che gestiva il CPR. La scoperta della morte del 19enne ha fatto successivamente scoppiare una violenta rivolta all'interno del centro con gli ospiti presenti che hanno dato fuoco a quattro moduli della struttura. Situazione che per essere sedata ha visto l'intervento di oltre 50 unità tra polizia, carabinieri, guardia di finanza e vigili del fuoco impegnati in una complicata attività di ordine pubblico e personale del 118 Basilicata intervenuto sul posto con 5 ambulanze e l'elicottero. Come confermato dalle forze di polizia non ci sono stati feriti.